In questo video... Guarda che se muoio mi agito, eh. ZIA! Non è possibile! Non è possibile! Non è possibile! Mi pare una bella e buona esagerazione. Eh? Non so, io premo tasti e preme altri tasti, dai, cioè. L'hanno aggiornato, ma veramente, è più buggato. Prendi la weapon! Oddio! Madonna mia! Scoppiata, rimasta secca! Guarda, guarda! Tutta incriccata così, con la testa dentro il muro, madonna! Beh, raga, e benvenuti in questo nuovo... Orribile video! Oggi, signori miei, siamo qui per tornare, dopo diverso tempo, su un gioco che mi ha dato parecchi problemi. Non troppi mesi fa. Molti di voi l'avranno sicuramente capito e sto parlando, ovviamente, di Granny 5. E voi, giustamente, vi domanderete... Bro, ma come mai torniamo su Granny 5? Beh, ci sono due motivi principali. Il primo è che, se vi ricordate bene, noi avevamo completato solo uno dei diversi possibili finali. E il secondo motivo è che hanno aggiornato il gioco. Lo hanno aggiornato, sembrano aver aggiunto un sacco di cose fighissime, tra cui finalmente la possibilità di salvare le partite. E, in secondo luogo, a quanto pare, sembra essere stato implementato anche l'inventario, signori miei. Cosa piuttosto insolita per un gioco di Granny. Ma comunque veramente molto interessante. Comunque, arriviamo almeno a 450 like per il prossimo video di Granny 5. Io direi di non perdere troppo tempo. Dunque ci si becca direttamente nella nostra stanzetta d'hotel sporchissima e piena di cimici dei letti. Buona visione! Ed eccoci qua, signori, direttamente nella nostra stanzetta d'albergo. Sporchissima! Ovviamente è sporca esattamente come me la ricordavo. Guardate ad esempio questo letto. Io ho come l'impressione che questo letto sia sempre più pisciato. Guarda, ci sono tutte le bacchie, le secrezioni corporee, il sudore, la piscia. La piscia pure sui muri. Guarda, guarda! Queste sono tutte chiazze dove la gente ha pisciato. Comunque, recuperiamo la nostra chiave e usciamo dalla stanza. Ma sono delle zucche? Ah, per Halloween! Sono delle zucche poligonali di Halloween! Guarda, guarda! Guarda le zucche poligonali con gli occhi tutti storti così! Madonna mia! Qua c'è il solito quadro della mamma di Sdendrina. E qua c'è il secchio. Questo, a quanto pare, è l'inventario, signori miei. Perché se io, ad esempio, premo E... Bucket Capacity. Allora, adesso lascio giù la chiave. Raccolgo il secchio. Ah, vedi? Così si apre l'inventario! E così posso raccogliere il secchio! Signori miei, questa è una svolta veramente incredibile. Guardate cosa c'è qua, qua c'è... Questa che non mi ricordo a cosa servisse. Questo è un crank. Eh, mi pare che servisse per... No, 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 no. Ma perché non... Madonna, il sopravvissuto! Il sopravvissuto miracoloso! Cioè, io gli sono letteralmente spuntato davanti agli occhi qua e non mi hanno visto. Ma questa situazione è assurda. Comunque, prendiamo il crank e mettiamolo nell'inventario. Ok, perfetto. Allora, io direi di prendere il secchio e di andare in giro a cercare tutte le cose che servono per la piscina. Perché questi libri si illuminano? Sono delle bibbie luminose. Ecco. No, non è possibile. Non è possibile! E non mi hanno visto! Mi sono proprio... Mi hanno nascosto davanti ai loro occhi! Con calma. Con calma, ma ci sono riuscite a trovarmi. Apriamo le scatole, apriamo i pacchi di Amazon. Vediamo di trovare qualcosa. Tutte vuote, ovviamente. Allora, ridammi il mio secchio schifoso. Così me lo porto di sopra e vado a cercare le cose di sopra. Allora, vediamo cosa c'è qua. C'è qualcuno che sale le scale. No, no, non sta salendo le scale. Le scende! Scende e viene verso di noi! Allora, lascio il secchio letteralmente dentro la reception. Oddio! No, no, non mi ammazzare, ti prego. Ok? Weapon key? Weapon key? Prendi la weapon? Oddio! Madonna mia! Scoppiata! Rimasta secca! Guarda, guarda! Tutta incriccata così, con la testa dentro il muro, madonna! Con la mazza che vibra tutto di 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 di! Adesso sai cosa faccio? Io ti rubo la keycard. Ok, gli abbiamo rubato la keycard. Molto bene. Comunque, qua c'è la blue key. E qua c'è la mamma di slendrina! E POM! Madonna sciolta anche la mamma di slendrina! Sciolta con un colpo di fucile maleducato! Il fucile rimane in piedi, rimane a fluttuare con la canna del fucile in piedi. Non si sa come sia possibile, ma va bene. Allora, qua c'è il numero di telefono della pizzeria, quindi chiamiamo la pizzeria. Ok. In teoria così ho chiamato la pizzeria, ho ordinato una pizza margherita. Sì, you order a pizza, molto bene, ce l'abbiamo fatta. Allora, prendiamo la swimming pool key e andiamo ad aprire la piscina, signori miei. Così abbiamo sbloccato anche l'area della piscina. Ok, perfetto. Allora, andiamo a riprendere il secchio a questo punto. Che, eh, non ricordo... Ah no, è qua, eccolo. Ok. Eh, andiamo a prendere tutte le cose, tutti gli oggetti che ci sono in piscina. Ad esempio. Qua vedo che c'è un cavo e il cavo lo prendo. No, l'inventario è troppo figo, signori miei. L'inventario è overpower! Non mi ha visto. Va bene così, signori miei. Va bene così. Va bene. Comunque qua non c'è nient'altro. Quindi andiamo di sopra e andiamo a cercare... Dai, ma cosa fanno? Ma si danno il cambio. Guardala, guardala. Guardala che scende le scale tutta poligonale, madonna. Io mi nascondo qua dietro. Ma dai! Dai, schippa sta schifezza, eh, per piacere. Allora, io ricordavo che questo gioco faceva bestemmiare, ma questa è veramente... Mi pare un'esagerazione, signori miei. Mi pare una bella e buona esagerazione. Eh? Non so, io premo tasti e preme altri tasti, dai. Cioè, l'hanno aggiornato, ma veramente è più baggato... L'hanno aggiornato, ma veramente è più baggato di prima. È più baggato di prima sto schifo di gioco. Fa schifo, è fatto male. Ma prima di aggiungere, madonna, l'inventario è tutto e ste boiate. Ma vedete di sistemare tutti sti bug schifosi, madonna. Ridammi il fucile che qua devo fare un po' di strage. Guardala, guardala, POOM! No, 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 no. Qua ci sono dei colpi del fucile. Ok, carico. Adesso ti faccio scoppiare. Adesso veramente ti faccio venire un'ulcera. Guardala, guardala, POOM! E cade dalle scale, madonna, guardala. Tutta incriccata, con le gambe incrociate, madonna. Così è rimasta. Guardala messa male tutta con la bocca allungata. Madonna, che schifo. Ma cos'è? Ma è scurgelato. Ma c'è crempa scurgelato nel letto. Cioè è di ghiaccio, è blu. Perché è blu? Oddio! Madonna mia, si è spawnato in piedi. POOM! Esplodi anche te. Brutto imbecile, guarda. L'hai morto tutto incriccato. Sta facendo una seduta di yoga. Allora, dammi il tuo pezzo di picture che hai in braccio. Ok. Allora. Entriamo nella stanza del sergente. Vediamo che cosa c'è. Allora. Niente. Assolutamente niente. Madonna, che bordello. Ma è sto pavimento scricchiolante. Tutto ammuffito. Tutto fatto male. Madonna, senti. Ma dai, su. Apro le porte e mi baggo dietro le porte. Ma che schifo. Fatto di schifo, madonna. Aspetta che qua c'è una cosa che potrebbe servirmi. C'è la lever. La lever mi serve. La porto nel secchio, signori miei. Cosa c'è dietro quella porta? Vabbè, dai, tutte e due. Mamma e figlia. Mamma e figlia che mi vogliono spaccare di botte. Ma non ti viene mai una squacquera, madonna? Una cacca lenta, allucinante? Oddio. Come ci sono passato? Come ci sono passato? Guarda, guarda, guarda. Pum. Oddio. No, pure lui, no. Vabbè, dai, poi. Cioè, non lo so. Vuole venire qualcun altro. Vuole venire JFK a spaccarmi i maroni. Madonna, esplodi. Guarda come si contorce. Ma sti balordi sono fatti malissimo, veramente. Comunque, questa la devo portare nel secchio perché serve nella piscina. Quindi andiamola a mettere nel secchio. Ah, questa è quella delle pizze. Mi stavo dimenticando. Mi dai la pizza? Voglio mangiare la margherita! Muoviti! Ok, qua c'è il pezzo di picture. Molto bene. Lasciamolo qui. Solo che io mi sono dimenticato dove ho lasciato il secchio. Il secchio dell'immondizia. Ok, è qua. Perfetto. Abbiamo aggiunto la leva della piscina. Molto bene. Non so cosa ci manca per la piscina, ma siamo già a buon punto. Allora, io ho la chiave per entrare nel lounge, vedi? Lounge. Entriamo nel lounge. Allora. Zucche poligonali ovunque. Cos'è questo? Cos'è sto poligono? Ah, è un cavo. Vabbè dai, ma te veramente, ma te non vuoi esplodere? Vecchio schifoso con la testa poligonale, madonna. Oh, I see you! I see you! Madonna, sclerato! Guardalo, guardalo, con la pressione alta, madonna. Vabbè, io cerco le mie robe, quello che mi serve, intanto che lui mi viene a cercare. Non mi interessa. La sua presenza non mi urta per niente. Guarda, si è girato a caso, madonna. Si è girato a caso e a caso è venuto a cercarmi. Boh, vabbè dai, veramente, sto gioco... Non ha proprio senso, signori miei. Anzi, non è che non ha proprio senso. Non ha senso per niente. Qua? Cosa vuol dire enter time? Cioè, devo mettere le ore. Questo prima si sbloccava senza dover mettere le ore. Che ore sono? Cosa ne so io? Qua c'è una blue key. Cosa potrebbe aprire la blue key? Forse qualcosa qua di sotto, vediamo. Ah sì, apriva qualcosa qua di sotto. Vediamo cosa c'è qui. Assolutamente niente di utile, se non la culla di slendrina inutile. Completamente inutile, vedete? Qua c'è slendrina inutile. Qua c'è la mamma di slendrina inutile. E qua c'è slendrina inutile di nuovo. Tutto inutile. Questa è la stanza più inutile del gioco, molto bene. Eh, però, eh, però. Guarda che se muoio mi agito, eh. Zio! Non è possibile! Non è possibile! Non è possibile! No, credo sia successa una delle cose più impossibili che io abbia mai visto. Cioè, ma avete visto cos'è appena successo? Guarda, guarda, guarda. Yee, yee, che mi viene verso di me camminando così, slisciando proprio. Ma vergognati, veramente. E io passo di qua e voi ci rimanete male e vi cagate nelle mutande. Questa che cos'è? Laundry key. La chiave della lavanderia. La lavanderia è all'ultimo piano! Devo raggiungerla! Esplodi! Schifosa! Oddio, Granny. Ok. Sblocchiamo lo staff only. Chiudi staff only. Ok. Aperto la lavanderia. E qua cosa c'è? Allora. Ah, questa... Questa è la lavatrice che si smonta per prendere i pezzi. Ok. Qua c'è sta porta che si apre? Io need a key. Ma ce l'ho la key per entrare di dentro? Ma cosa stai dicendo? Boh, vabbè, dai. Va bene. Va bene. Eh, io mi infilo qua sopra perché... Di sotto c'è Granny e non voglio esplodere. Allora. Vediamo cosa c'è in questi cunicoli. Qua c'è un green cogwheel. Qua cos'è che c'è? Vabbè, butto il green cogwheel lì di sotto. Qualcos'altro c'è che mi potrebbe servire o no? Granny che scende le scale. Granny che va a esplodere da suo padre deluso della vita. Io non sto trovando più niente qua di sopra. Quindi io direi di scendere dove ho buttato il cogwheel. Ok. Ah, bene, 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 bene. Questa è la stanza che in teoria sarebbe accessibile solo attraverso il forno qui dietro. Vedi, qua c'è il forno a legna, madonna. Solo che io dovrei prima staccare il gas e poi col crew bar scriccarlo. E invece, siccome io sono più smart, sono passato da lì sopra. Molto bene. Qua c'è qualcosa che mi serve? No. C'è solo un cesso poligonale tutto arrugginito. Una chiazza di squacquera nello scolino della doccia. Ma poi perché ci sono tre scolini? Allora, c'è uno scolino della doccia lì. C'è uno scolino della doccia qui e c'è un altro scolino della doccia qua. Cioè, perché? Vabbè, smettiamo di farci domande perché in questo gioco di cose inspiegabili ce ne sono parecchie. Allora, questo è un altro pezzo di picture. E il pezzo di picture mi serve qua sopra in teoria. Vai, apriamolo. Allora, io lo lascio qua perché tanto lo devo portare qua di sopra. Quindi adesso io passo qua di fuori. Qua c'è una green key che non so cosa possa aprire. Però la prendo. Vabbè, dai, il pavimento che scoreggia! Dirti green key. Ho la green key e la dirti green key. E ho anche lo screwdriver. Molto bene, signori miei. Molto, molto bene. Allora, lo screwdriver mi serve di sotto alla piscina. Quindi lo lascio nel secchio. Ok, allora, apriamo l'inventario. Oh! Ok, allora, mi mancherebbero tre fili. E basta. Solo tre fili mi mancano, signori miei. Siamo abbastanza avanti. Sapete cosa faccio io? Io prendo anche i pezzi della cosa di slenderina e li metto nel secchio. Tanto mi sembra che lo spazio ci sia abbastanza. Qua c'è qualcosa che ho lasciato indietro. Dai, ma esplodi! Vediamo? Ah, sì, un filo, vedi? Prendi il filo. Tutto ciò mentre sono inseguito da sta storta maledetta. Da sta storta poligonale, di cui non me ne frega proprio niente. Un altro filo? Aspetta, aspetta! Ah, non manca quasi più niente. Vabbè, andiamo alla piscina intanto. Andiamo alla piscina. Allora, in teoria alla piscina posso accedere da qua, vero? Ok. Ma chi c'è? Qualcuno? No, non c'è nessuno che mi insegue. C'è la canzone dell'inseguimento così. A caso. Senza nessun motivo. Comunque, allora. Qua. E prepariamo tutto ciò che c'è da preparare. Quindi, mi serve questo. E lo devo mettere qua. Ok. E così abbiamo chiuso il gas nel forno di sopra. Anche se effettivamente non mi serve. Poi, se non ricordo male, questo qui va inserito qua. E ci siamo. Poi mi serve il cacciavite, signori miei. Il cacciavite. E devo avvitare. Una, due, tre e quattro. E qua ci mancano i fili della piscina, signori miei. Questo lo posso lasciare qua. E mettiamo uno. Due. E tre fili. Molto bene. Ci manca l'ultimo filo, ma non ho idea di dove sia. Posso tornare su di qua? Ah, sì. Posso dribblare i granny così. Madonna, granny esplodi. Adesso io passo di qua. Ok. Va bene. Va bene, non c'è nessuno. Allora. Devo tornare a prendere il fucile. Perché devo far esplodere questo vetro. Sicuramente c'è qualcosa che mi serve lì dentro. Allora, questo lo lascio qui per ora. No! No! Dai, madonna. Ma non ti viene veramente mai una caccarella allucinante? Allora, passo qua sotto. Cagati addosso. Madonna, c'è granny proprio lì di fianco? Rooms. Con cosa si apre questa? You need a key. Eh, ma quale key mi serve? Mi serve un filo, signore miei. Mi serve un filo. Chain cutter. Ok, con queste addormentiamo il nonno per sempre. Molto bene, signore miei. Molto bene. Allora, saliamo qua di sopra. Se non sbaglio dovrei poter entrare da qua. Ok, sì. Adesso taglio questo filo. E il nonno dorme per sempre. Cade in un sonno profondo irreparabile, signori miei. Irreparabile. In teoria adesso possiamo entrare nella camera di Grempa senza che lui si svegli. Ma per ora non mi interessa. Vabbè, dai. Mi interessa di più il fucile, ma non so dov'è. Seriamente, dove l'ho lasciato il fucile? Eccolo dov'è. Aspetta che sparo a tutti. Aspetta che madonna faccio una fucilazione allucinante. Qualcuno? C'è qualcuno qua? Ah sì, eccola. Pum! Ah sì, guarda anche la madre. Pum! Eh! Ma cos'è? È impenetrabile. Non può morire. Ma mi spiegate per quale motivo non è morta? Colpi del fucile. Colpi del fucile. Ok, eccoli. Colpi del fucile. Vieni qua, vieni qua, madonna. Pum! E stavolta muori però, eh. E stavolta muori. Allora, qua c'è una Green Key. Forse con questa Green Key posso aprire queste stanze qua. Vediamo. No, mi serve la Dirty Green Key. La Dirty Green Key. Dov'è che era? Dov'è la Dirty Green Key? Ok, qua non c'è. Dirty Green Key! Andiamo ad aprire le stanze di sotto. Allora, Rooms 2330. Perfetto, ci siamo. 2330. Non è che è l'orario che devo mettere nell'orologio. Dopo ci proviamo. Allora, controlliamo tutte le stanze. Niente. 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 E questo è bloccato con il magnetic lock. Madonna, ti venisse veramente un'esplosione. Il cavo dove potrebbe... Ma è già respawnata. Ma è già respawnata. Dammi il fucile. Fammi ricaricare anche il fucile. Ma il cavo dov'è? Un cavo mi manca. Madonna, esplodi! E madonna... Vabbè, dai, sì, ma... Ma non muore mai! Non muore mai! Non muore mai, madonna! Non muore mai! Tu gli spari e non muore! Non gliene frega niente! Dove sono adesso altri colpi del fucile? Eccolo! Ok, ce l'abbiamo! No, dai, no, 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 no. No, devo passare di qua. Madonna mia! Ho un solo colpo e non posso sprecarlo per uccidere ste due! Non posso! Fammi spaccare questo vetro. Ok, entriamo, signori miei. Ci siamo. Ok. Ah, qua ci sono altri colpi del fucile. Molto bene. Ricarichiamolo. Uno e due. Allora, qua c'è una white key. Eh, ma la white key che cosa apre? Ma basta! Basta di seguirmi in continuazione! No, madonna! La white key che cosa apre? Close restaurant. Eh, vabbè, e sono morto! E sono morto! Oh, no, non posso aprirla perché ho sbagliato chiave, madonna! Dai, dammi sta chiave qua. Ok. Io, signori miei, non voglio sprecare salvataggi perché ho scoperto che posso salvare solo quattro volte! Vabbè, dai, ma cosa fa? Ma stava andando a pisciare! Cos'è che va? Va a leggere le prenotazioni dell'albergo. Cosa sta facendo? Allora, qua c'è una white key. A cosa potrebbe servire? Onestamente non lo so. A cosa potrebbe servire la white key? Onestamente non lo so. E vabbè, dai! Madonna! Ma dai, ma che morte inutile è! Ma cosa sono, madonna? I manichini che cadono! Che si appiccicano al pavimento! Ma che schifo è! Guarda, guarda, ogni tanto cade un manichino! Eh, penso di essere morto a questo punto, guarda un po'. Ma l'affanculo! Io mi ricordavo che questo gioco facesse bestemmiare. Ma non mi ricordavo che facesse bestemmiare così tanto! Ma non è possibile! Io speravo avessero migliorato un pochettino Granny e la mamma di Slendrina! Ma sono puggati esattamente come quella volta! Cioè, muori in delle situazioni assurde! In delle situazioni astrali, madonna! Vabbè, hanno aggiunto le zucche natalizie! Sì, le zucche natalizie, vabbè! Le zucche di Halloween! Hanno aggiunto l'inventario che, per carità, fighissimo! Hanno aggiunto la possibilità di salvare! Ma cosa mi serve salvare se posso salvare solo quattro volte? Comunque, signori miei, giudicate voi con un commento questo nuovo aggiornamento di Granny 5! Mi raccomando, arriviamo almeno a 450 like per il prossimo episodio! E soprattutto, iscrivetevi a questo ORRIBILE canale! E, signori miei, se volete supportare tutto il lavoro che porto qui su YouTube, considerate di abbonarvi perché al prezzo di 99 centesimi, avrete l'esclusivo vantaggio di vedere tutti i miei video in anteprima assoluta! Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche in questa ennesima disavventura su Granny 5! Speriamo che la prossima volta riusciamo a combinare qualcosa di meglio! E che dire, ci si becca al prossimo video! Addios!